Pace e bene, oggi ti racconto una storia vera, accaduta a madre Teresa di Calcutta. Lei racconta E lui, sì, pur di sentire una voce umana in questa casa, l'accenderei. Alcuni giorni dopo ricevetti da lui questo brevissimo messaggio, di alla mia amica che la lampada che accese nella mia vita continua a brillare. Morale della storia Quanto sono preziosi i piccoli gesti d'amore, capaci di infondere gioia e speranza al cuore. Una semplice visita, una breve chiamata, un piccolo dono. Gesti semplici, la cui eco è eterna. Si narra che in una chiesa in Spagna fu ritrovato un antico crocifisso, enorme e meraviglioso. Purtroppo era senza braccia e non poteva essere riparato. Il sacerdote decise comunque di appenderlo sopra l'altare, così e com'era, senza braccia, ma con sotto una scritta Ora le mie braccia siete voi. Sì, ricorda, ora le braccia, le mani, le labbra che Dio ha per amare sulla terra sono le tue. Che il buon Dio ti benedica.